troppa galla troppa galla nuova sigla il programma a stare a galla allora la nuova puntata del arte potino vizzi basta non si fa più perchè non vuole basta basta si spegge tutto e via per caso è stato bello è stato bello è stato bello è stato bello è durato durava po' durava due puntate è bello senti ma questo me lo descrivi così giusto per me no 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 guarda che quadro bello c'è la mamma e la sorella la mamma e la sorella guarda un po' sei sicura lei e la mamma sono sorelle e che fanno e il babbo il babbo sarebbe questo si sei sicura si è un topo un topo un topo questo un gatto eccolo qui è un gatto o un topo? un topo un topo sei sicura? un gatto un gatto un gatto e che fa questo gatto topo? questo è perchè ha paura del babbo del babbo il babbo no del mago merlino il mago? brellino mago brellino mago brellino no il mago mago brellino come si chiama? non lo so come si chiama? brellino non mi riesce di dire mago merlino? mago merlino che fa mago merlino? mago merlino è l'espia li spia li spia da dove? dalla porta che è rotta ok beh si è capito non so cos'è e l'espressione sono due sorelle si e che fa questa questa sorella qui in primo piano? applaude? impara a battere le mani a battere le mani è vero è vero è vero e l'altra diciamo sorella? dice scusa mi fai alzare? ah ok va bene e dice ci posso entrare babbo? dice ci posso entrare? ok abbiamo capito a tutti e due abbiamo capito salutiamo tutti gli amici avete capito di quale si fa così non ci guardano più va bene scusate ho provato ad educarla questa bambina ma scrivetelo nei commenti scrivetelo nei commenti autore e il soggetto del dipinto a presto il vincitore vince la spilla di Arti Ammodino questa arrivederci no no la prossima no guardate vieni babbo tieni la mia mano eccola eccola si vede si vede un saluto a tutti ciao ciao ma ora si fa la lotta la lotta? si va bene